Casoli, frazione di Camaiore, da 500 abitanti oggi ne conta 150. Lo spopolamento delle montagne della Versiglia si percepisce e nel suo silenzio tra i vicoli ornati da graffiti il tempo sembra essersi fermato. Eppure la macchina comunale sta facendo molto per questo piccolo borgo che resta fragile nella sua conformazione rocciosa. Si cerca di mettere in sicurezza il paese dalla caduta di massi e poco lontano verso il cimitero c'è un intero versante a rischio. Questo luogo in realtà non è nuovo a smottamenti e frane. Qui si è registrato il dissesto idrogeologico più importante della Versiglia dopo l'evento del Cardoso negli anni 90. Qui c'è stato un evento franoso che aveva interessato anche abitazioni, il bar della frazione e altre infrastrutture. In quell'occasione fu rimesso tutto in ripristino con strumenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio. Da questo intervento è rimasta fuori la zona lato cimitero che potete vedere alle mie spalle. Quello è tutto un versante che ancora oggi rimane da mettere in sicurezza e non fu fatto alcun intervento appunto negli anni 70 a seguito di quell'evento franoso. Per mettere in sicurezza il versante il Comune ha già un progetto. Il costo è di 2 milioni di euro. Ci eravamo aggiudicati un bando che in primo era un bando ministeriale che poi fu trasferito sui fondi PNRR, però proprio in questi giorni ci è stata comunicata la revoca di questo intervento. Per un cavillo che in sostanza ritiene che questo intervento non sia di messa in sicurezza di un versante, ma di una semplice messa in sicurezza di un tratto stradale, cosa che di fatto non è. Una decisione quella presa dal Governo che potrebbe mettere in pericolo l'intera frazione. Secondo alcuni studi effettuati l'area del cimitero scivolerebbe a valle ogni anno di un paio di centimetri. Ci stiamo già organizzando con il geologo all'agosta per relazionare in modo specifico e ben circostanziato l'evento e il luogo dove è presente questo dissesto. Io auspico che questa istanza in autotutela che presenterà il Comune sarà tenuta in serie considerazione da parte del Ministero.